Salve a tutti, sono Newtabris96 e in questo mio nuovo video vi mostrerò il set completo in italiano Team Rocket Il set completo Team Rocket è composto da 82 carte, più una speciale che vi mostrerò alla fine Ed è il primo set in cui sono stati introdotti i Pokémon Dark I Pokémon Dark avevano la particolarità di avere meno vita rispetto alle loro versioni normali Però avevano degli attacchi o più potenti o con effetti secondari migliori nei combattimenti Il set Team Rocket viene stampato dopo il grande successo nella serie animata Nel Team Rocket appunto che erano praticamente i co-protagonisti di Ash, Misty e Brock E dalla serie animata nasce il gioco Pokémon Giallo in cui questi personaggi sono appunto anche presenti nel gioco come semi-protagonisti E poi è stato stampato insieme alla Wizard di set Team Rocket Ma andiamo subito a vederlo La prima carta di questo set è Dark Alakazamolo Come potete vedere ha soltanto 60 punti vita Sono pochi per un Pokémon di fase 2 Però comunque ha degli attacchi non male con anche degli effetti secondari molto buoni Dark Harbok uguale Dark Blastoise Solo Dark Charizard Notate che hanno tutti quanti molti punti vita molto bassi Però per esempio questo Dark Charizard fa scarica di palle di fuoco 50x per dire un attacco molto molto forte Dark Dragonite uguale 70 punti vita Però Gigacoda 70 Dugtrio Dark Durgtrio Dark Golbat Dark Geridos Dark Hypno Dark Machan Dark Magneton Dark Slobro Dark Wild Plum Dark Wheezing Arriva il Team Rocket con appunto Jesse, James e Mayo Queste carte sono tutte quanti olografiche compresa arriva il Team Rocket che è un addestramento Attacco sorpresa del Team Rocket con Cassidy Che appunto è anche oloquesta Energia Arcobaleno E poi come tutti i set vecchi diciamo hanno le stesse carte ripetute in versione onolografica Poi c'ho Dark Alakazam Dark Harbok Dark Blastoise Dark Charizard Queste due sono prima edizione Dark Dragonite Dark Dugtrio Dark Golbat Dark Geridos Dark Hypno E Dark Machamp Dark Magneton Dark Slobro Dark Vileplum Dark Wheezing Dark Charmeleon Dark Dragonair Dark Electrode Dark Flareon Dark Gloom Le carte ripetute finivano a Dark Wheezing E da qui in poi sono arrivate le altre carte semi rare Sempre tutte quante in versione Dark Dark Goldac Dark Jolten Dark Cadabra Dark Machoke Dark Mach Dark Persian Dark Pramape Dark Rapidash Dark Vaporeon Dark War Turtle Magikarp Porygon Questo era il Porygon che si vinceva Si che si vinceva Che si compriamo Comprava al casino Con 9999 crediti Gettoni Abra Charmander Dark Raticate Diglett Dratini Drausi Ivi Evie Ekans Grimer Koffing Machop Magnemite Menchi Meo Meo Oddish Ponita Psyduck Rattata Slopo Slopo Squirtle Voltorb Zubat Qua ci sono di nuovo Arriva il Team Rocket Atacco a superare il Team Rocket Di versione non olografica Alla maniera del capo Questo ovviamente è Giovanni Sfida Scava Trappole La Vendetta Da Professor Rock l'Impostore Il Professor Rock l'Impostore Lo troviamo già nel set base Raccolta notturna della spazzatura Gas stupidifero Dormi Energia arcobaleno non olografica Energia recupero totale Questa qui è l'ultima carta del set L'energia passione magica E poi Questa qui è anche la prima carta Fuori numerazione Presente in un set Dark Raichu Che è la carta Numero 83 Di 82 Olografica Questa è una carta molto speciale Che in molti video che ho visto Tutte le persone che facevano vedere Il set Rocket completo Alla fine non lo mostravano Questo Dark Raichu Perciò è molto raro E ovviamente in italiano Come tutte le altre nostre carte Adesso nel prossimo episodio Ci sarà Jim Heroes E poi anche Jim Challenge E sono due set che non sono stati Diciamo tradotti in italiano E perciò ci sono stati in inglese E ve li mostreremo in lingua originale Nei prossimi video Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie a tutti